Vittoria come accendere un settecento due tempi, vediamo. Allora, sulla moto, in piedi. Vediamo la pedalina, devi sentire quando appena appena arrivi vicino al pistone. Ok, ora, chiudo. Fermati, torno sulla pedalina del tutto, e sono in un bel lato forte. Vado, eh? No, però potremmo essere qui. Adesso riprova, aspetta, sentite il compressore, vi provo a sentire. Vai, ora. Aspetta, eh? Ancora, appena, appena. Adesso vai su del tutto, guarda. Ok, ora secco, ma accelero? Vado, eh? Non lo sento quella buona. No. Riproviamolo. Dai, l'ultima. Adesso ce la posso fare. Vai, il decompressore, sentiamo. Ok, ora. Fermati. No. Secondo me ora. Tutto esterno. Corro indietro, così. Vai. Devi un po' di gas. Non lo sentimo. No lo sentimo. Non lo sentimo.